Prove tecniche dell'Atalanta in vista dell'esordio di campionato, fissato per domenica alle 20.45 in casa contro la Lazio e così proprio per calarsi meglio nell'atmosfera della sfida in notturna e per dribblare anche il caldone di questi giorni, mister Colantuono ha deciso di posticipare alle 20.30 di questa sera la tradizionale partitella in famiglia al centro Bortolotti di Zingonia. Il test è previsto a porte chiuse in quanto la tribuna non è illuminata e dunque non può essere agibile. Da valutare anche le condizioni di Thomas Manfredini che ieri era rientrato nello spogliatoio prima della fine dell'allenamento per un fastidio ai flessori. Restano invece sempre fuori dal lavoro del gruppo Daniele Capelli e Guido Marilungo che procedono invece con i rispettivi programmi di riabilitazione. Per loro terapie e lavoro in acqua. Per la sfida contro la Lazio che stasera gioca a Maribor contro il Mura nell'andata del turno playoff di Europa League si profila uno schieramento con consigli tra i pali Bellini, Lucchini, Manfredini, Opeluso e Brivio in difesa, Schelotto, Cigarini, Cazzola, Ocone e Bonaventura a centrocampo con Morales dietro l'attaccante Denis. Sul fronte mercato infine si resta in attesa il probabile arrivo a centrocampo di Davide Biondini dal Genoa. Manca davvero poco per chiudere l'operazione e di un possibile ritorno a Bergamo di Sergio Flocari ma qui la situazione è un po' più complicata. Nelle ultime ore per l'attacco è spuntato anche il nome suggestivo di Luca Toni però poco praticabile. In partenza invece Tiri Bocchi che attende solo il disco verde della società per accasarsi alla Provercelli.